e siamo on amici yeah baby ciao marco benvenuto buonasera allora condividiamo la live aspettiamo che entra qualcuno allora ragazzi anche se non siete entrati ma se la vedete questa oh hanno cambiato tutta la condivisione perchè devono cambiare le cose twitch perchè devi cambiare le carte in tavola ok funziona bene ok ho sbagliato tantissimo ciao stream elements ciao sound alerts grande stream elements grande marco anche tu saluti stream elements ehi sharder amico mio eccomi ciao manuel guarda cosa portiamo io e sharder senti la vicina di sharder ciao sharder manuel ciao manuel guarda cosa c'è qui amico mio sharder design eh si eh si c'è il nostro amico sharder facciamo una mega una mega una mega una mega una mega andrea andrea indovina chi ha il gioco andrea c'è il gioco anche tu allora andrea adesso andiamo a fare eh si andiamo a fare la eee bimax mamma mia amico mio da quanto tempo manchi nelle nostre live fighissime ciao bimax grandissimo allora condividiamo andiamo subito ragazzi vi faccio vedere un'anteprima posso venire in parti con voi? si e dopo mi arriva il primo manuel va bene allora prima ti dico andrea come facciamo la cosa faccio vedere un attimino per i ragazzi che non hanno il gioco e e dopo fa inizio la carriera con il grandissimo sharder e dopo facciamo una garetta online insieme ok? ok posso venire anch'io? yes allora però aspettate un attimo prima facciamo l'introduzione della in parte si 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 avevo capito avevo capito manuelito fammi prima parlare un attimo dell'introduzione del gioco così riesco a parlare senza senza che troppi casini e poi dopo quando partiamo a fare il no 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 sorry no vai tranquillo come è? ho impostato il volante il force feedback è stranissimo ecco io non l'ho ancora provato ciao Kevin allora ragazzi incominciamo a vedere ah 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 grande Kevin già che non funziona ah ok va bene f1 personalizzazione abbigliamento casa mia profilo ok questa è casa mia oh pavimento muri luci ciao sharder ho ordinato anch'io grande b max dai che ci facciamo delle vizze dai Kevin compralo anche tu l'hanno ordinato tutti ci facciamo delle delle mega delle mega giocate insieme dai grande grande allora l'avatar allora vediamo un attimo 78 posso sceglierlo io proprio l'ho solo fatto partire oggi ragazzi 78 paese regione italia allora siamo sul formula 1 2022 ragazzi insieme a sharder sentitolo grande sharder buonasera abbiamo partire chi era che era ai grandi allora vediamo un attimo allora la personalizzazione raga è sempre un po' quella eh quindi non è che c'è proprio tantissime cose da fare va be la scegliamo lui perché c'è la barbetta mi piace allora i loghi il logo però si bisognerebbe crearlo eh il logo il logo ci pensi tu eh spero che si possa condividere però vabbè vediamo dai Allora, supercar, supercar ragazzi Ci può fare, non è l'olino Oh Ok C'è anche, ragazzi, una Una cosa di macchine In questo gioco qua Allora, carriera Adesso andremo a fare la carriera insieme all'amico Sharder Formula 1 22 In Miami Ok Due giri Ok Vabbè, chiaramente Oh, eccole qui le macchine nuove, ragazzi Così si fa Così Va che bel rotamino la mia Allora, andiamo con L'amico Leclerc Vediamo un attimo, allora Aiuto e sterzata no Freni assistita no Traiettoriale dinamica solo curve Perché non è che me lo ricordo Controllo e trazione facciamo a mente Teno tirocaggio va bene Perché se no è una rottura Box tutto sì Allora, regole e bandiere Vediamo un secondino solo, ragazzi Svedetelo qui, va bene Poi Impostazioni Allora, mi dice l'amico Andrea Che il feedback è strano, eh Il force feedback Tu, Andrea, il G923, ne? Difficoltà la mettiamo anche a 45 Dai, ragazzi 45 ridotto Facile Ehi, monster Grandissimo Tutto bene Tutto bene, amico mio Allora, classico No, breve Facciamo corta, ragazzi Perché voglio solo farvi vedere C'è il grandissimo sharder dentro, eh Nelle parti Si può guidare come volevo io Si può guidare come volevo io Come volevi tu Come volevi tu Scusami Adesso l'ho appena fatto partire Non ho ancora provato a fare, come dicevamo Volante E, eh Sto provando adesso la prima volta col volante, eh Spero Che sia come dico io Che hanno messo il force feedback Spero Perché l'amico Andrea dice che è strano, eh Innesta la frizione e aspetta la partenza Dai gas Frizione Via Ecco, si gira il drums Ah, ah Bellissimo Ah, ma non ho il cambio automatico Ah Bellissimo Partiamo benissimo Con una bella girata Eh, dai Cambio manuale Ah no, aspetta Devo mettere consigliato e manuale Vero? Mi sembra Partiamo bene ragazzi Partiamo non bene Ma benissimo Grandissimo Subito una bella incornata Alla partenza Vai Ci sta mettendo un po' troppo Dai muoviti Attendi Che cosa devo attendere il gioco Muoviti Caspita Che cosa devo attendere Perché devo attendere tutto sto tempo Per ripartire una partita Dai C'è il chiodato Vabbè Intanto le prime impressioni Sembrano buone Adesso vi dico anche Se Oh Mamma mia Le impressioni di caricamento Non è buona Troppo tempo No Troppo tempo Via In che marcia devo partire Per fare In sesta Dai Raga Madonna Davvero Che mi dice Perché manca La pace del day one Allora Il volante L'hanno tenuto uguale Sti Balordi Perché non l'hanno messo Come in Gran Turismo Il Ford E no Non torna Praticamente Il volante È uguale Al 2021 Raga Il volante È molle È molliccio Porca roca Ha fatto partire Da gomma Anche qua Ragazzi Benissimo Bene Bene Ma non benissimo Ha fatto la macchina Ecco l'altra gomma No no L'ha detto Vabbè ragazzi Ti ricordo Di che ti buco le gomme Come cacchio Si fa tornare indietro Eh Mi buchi le gomme Allora Allora dai Si È molto stabile Molto meno stabile Eh raga Ma tanta roba Non è poco Ma dicono che È un po' Peggiorato la guidabilità O Tutto bene Macchine più pesanti Ruote differenti Ah proprio per Come sono fatte le macchine Adesso La guidabilità è buona Ok ok Devo solo abituarmi Allora Di cominciare il campionato Sinceramente A prenderci un po' la mano Perché se no Mi sa che il nostro campionato Sarà molto 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 brutto Hai fatto qualche gara Ti trovi bene? No Sì Non trovo Non sei Non trovo Non trovo Non trovo Non voglio Ma i miei Non trovo Non trovo Non trovo È la prima volta che provo la pista Ma Come da noi Allora Adesso tra un po' Esatto Kevin Tra un po' Il grandissimo Shard Si pentirà di aver detto Faccio la campagna tutta Col Marco Drums Games Devi capire Che io e Kevin Abbiamo fatto una bruttissima fine Del nostro campionato Però Kevin L'abbiamo anche interrotto Cioè Potevamo anche migliorare Allora della fine È vero anche quello Vero Shard Ciao amici amiche di Twitch Non lo faccio cadere Kevin Lo tengo Un fordato lì E' vero Può anche vincere Il campionato amico Shard Noi siamo Siamo un team Basta che vince il team Si no no È vero B Ma infatti Cioè Non sto dicendo che è brutto Non sto dicendo neanche Che il gameplay non è buono Sto solo dicendo che è Un po' diverso Eh Eh bisogna migliorare la macchina Bisogna fare i campionati Bisogna Investire soldi Investire Bene ma non benissimo Si può fare in tre Assolutamente no Assolutamente no E' da due Due macchine Però magari Bimax o Andrea Vuole farlo Magari insieme a te Prova a chiedere Ragazzi Allora tra l'altro C'è anche un campionato Di macchine Con auto Da strada E altre prestazioni Prova a provatempo Come ha detto L'amico Su Su Monza Che Monza la conosco Come pista Esatto 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 Mettiti d'accordo Manuel Su Discord Sul mio Discord Dai Ci fate sapere Ragazzi Ho mandato pure a voi Esatto Bella Lord Manuel mettiti d'accordo Lord Era un altro tempo Esatto Esatto Grande Lord Mettiti d'accordo Manuel Su Su Discord Sul mio Discord Ok Che ci sono tutti Adesso non so se Bimax C'è sul Discord Se vuoi Mettiti sul Discord Mi devi dire Bimax Dopo ti mando il link Se c'è la mitica Aspetta aspetta Fammi fare un attimo Dopo vi invito Marco non farei I boss No Ai Discord Non funziona Devo farlo Devo mettermi dietro A fare il boss Ciao amici Ho visto Troppo avanti Con tutti questi social Minchia Bimax Io c'ho anche WeChat Robbe che non ho mai sentito Mai fatto a partire Ma ce le ho tutte Mi sono fatto l'escrizione A tutte A tutte A tutte Grande Allora L'erogazione Del motore Io la trovo Molto migliore C'è Le marce E' restato Il fax E' la la Dai E' la ISDN O' la 32K Dai Il fax E' tanta roba Indietro Amico mio No Sai cos'è il bello Bimax Del Discord A parte che si può scrivere Tra tutti noi E poi Si può condividere Anche delle immagini Si può condividere L'audio Ci si può mettere d'accordo Quando si gioca insieme Visto che l'hai comprato Anche tu Capito La 32 La 32 bit Beh Allora Su Monza Diciamo che Hola Giulia Che condivide Discord Grazie Amica mia Allora Sono 2691 Raga Su Monza Quindi Tanta roba A mondo Ciao Giulia Tu quanto sei Su Monza Che bello Giulia Che sei qui Finalmente Grand Day One Di Formula 1 2021 Raga Porca Mi sono girato Bene ma non benissimo Bene ma non benissimo Entrato In Discord Dove sei entrato Manuel Dove sei entrato Allora ragazzi Domani sera Lasciando stare che Stiamo su Questo mitico gioco Stasera Io vi trovo bene Molto bello Gameplay ragazzi Migliorato di brutto Però bisogna Prenderci la mano Bisogna Prenderci la mano Ragazzi Ve lo dico Perché davvero Bisogna Prendersi un po' La mano Col gioco Io Andrea Io mi trovo Abbastanza bene Con Col volante Però Non ha le impostazioni Di Gran Turismo Quindi sarà sempre Un passo Di qualcosa di diverso Il volante Tra il Formula 1 E il Gran Turismo E ci sta comunque Almeno avere I giochi Differenti Sì È cambiato È cambiato Però Non è come Il Gran Turismo Tutto bene Giulia Tutto bene Grazie Grazie Amica mia Ciao amici Mi fa andare Buon muro Io Questa c'entro È dentro di me No In canteria A dopo Dici Può essere Può essere Che ti butto con tu Ciao Davide Adesso facciamo il campionato Amico mio Sì Grazie Grazie Oh C'è un grande D-Max Grande 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 Dai Ci mettiamo d'accordo Allora Con chi fa il campionato Insieme Anche Andrea C'è Ci sono tutti Ciao amici E amiche Formula 1 2022 Amici Grandissimi Iscrivetevi al canale Ragazzi Dai che con 3 follower Arriviamo a 600 iscritti Dai amici Dai amiche Cominciamo stasera Cominciamo stasera Ciao Betty Grandissima Guarda qui che gioco sto portando In day one edition Che tu non sai neanche cosa vuol dire Ma vuol dire che il gioco Deve ancora uscire E noi ci giochiamo prima Grande Betty Salutami ciccio Salutami ciccio Orca Mi sono cambiato Mi sono dimenticato Betty Per salutarti di cambiare la marcia Stavo andando in settima Venerdì Dai Davide Non fa niente Vieni a vederci Vieni a vederci a noi Nel frattempo che ti arriva il gioco Dai 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 Giro veloce ragazzi Vediamo che posizione sono 2678 Ragazzi Staremo qui fin quando arrivo A diventare primo Quindi per 7-8 giorni Ragazzi Staremo qui a fare Venite Eh Shard No Da off a nera Grazie ciccio Amico mio Come stai Come stai Tutto bene ragazzi Dai dai 7-8 anni Esatto Per arrivare primo Intanto c'è Formula 1 2074 Con le navicelle spaziali Ragazzi Tanto rodere E io sono ancora qua A fare il tempo Bellissimo Bellissimo Benvenuti ragazzi Amici e amiche di Twitch Iscrivetevi al canale Dai che arriviamo a 600 follower Stasera Grande bimax Gente che viaggia Con le navicelle Io ancora qui Marco Dranz Time Trial A fare Monza Che non ci sarà più Monza Ci sarà Milano City Dopo Nel campionato Nel campionato L'incidente di Marco Dranz E raga Allora Diciamo che mi sto Mi sto ambientando Un po' al gioco Possiamo Secondo te Amico Shard Cominciare la campagna E vedere cosa salta fuori Tanto se poi sbattiamo Ne facciamo più di una Non è un problema Cosa ne pensi? Facciamo così? Grazie 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 Grande bimax Aspetta bimax Ho tagliato tutto Bellissimo Mi sono anche girato Belle live di Marco Dranz Ragazzi Allora Sto solo scherzando Non saranno tutte così Aspetta aspetta Manuel Quando esco poi ti invito Se no Colpa tua Assolutamente si Marco Dranz Non sbaglia mai Tu riesci invitare Manuel Che non Se no devo uscire E fare il coso E anche Andrea Ce l'hai detto tu? In noi parti? Non so se sono loro Andate Allora Andrea E Chi vuole venire in parti? Però Non facciamo troppo casino Ragazzi Perché poi dopo Nella live Fa veramente bordello Andrea E Manuel Vuole entrare Ah Vi stavo dicendo Amici miei Che domani sera Facciamo Una mega live Con Falguise Con Kitsune E Morris Gamer Se volete Entrare Possiamo fare Se siamo in tanti Più di dieci persone Possiamo fare La E anche tu Lord E Giulia Domani sera Possiamo giocare insieme Perché se siamo più di dieci Facciamo la partita privata Quindi giochiamo tra di noi Ok ragazzi Quindi se volete giocare Scaricatelo È gratuito Fai il guide E domani sera Lo portiamo Alle otto e mezza A otto e mezza Ok Giulia Dai così ci divertiamo Facciamo il bordello Manu e Bimax Ci avete la mia amicizia Mandate L'amicizia Chi volete A Charger 98 Che pista sto facendo Monzetta Ok Una Manzina Monzina Andrea Invita A mandare l'amicizia All'amico Charger Così ti invitiamo Dentro nel party Allora Però prima Cominciamo A fare la campagna Ragazzi E poi dopo Giochiamo insieme E bisogna fare Un sacco di prove Ragazzi Con le prove Poi si va forte Va bene Va bene Dai Tanto questo giro Era andato Io volevo vedere Il replay Ragazzi Però per vedere Perché quell'altro Sinceramente Scattava Ma è possibile Che il replay Di sto gioco Fa vedere Solo gli ultimi Dieci millesimi Di secondo Io non riesco a capire Solo le gare Solo le gare Te lo fa vedere Tutto Vabbè Fine Ok ragazzi Allora Ciao Andrea Io vorrei capire Che cos'è Le supercar Però E' una cosa Che mi intriga Di brutto Ciao Andrea Grande Buonasera Grandissima Buonasera Buonasera Ciao bello Ciao ragazzoni Ciao 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 Buonasera 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 Per gare online Nonari Di Pomeridiani Aggiungetti Ok Allora Il grandissimo Bimax Se volete fare Nel pomeriggio Ragazzi Lui c'è Quindi Poi ci mettiamo D'accordo Anche su Dima Ah si Perché sei uscito E sei rientrato Perché se no Ho detto Madonna E' entrato due volte E' entrato Ci abbiamo due Andrea Si bravo Bravo Dobbiamo prestare Attenzione Molto a queste cose Ragazzi Io intanto sto Sto andando Con una supercar No bisogna Prenderci la mano Eh per me si Perché comunque Da gran turismo E' una bella Dipende Anche con le macchine Proverai una gran Difficoltà Io sto facendo Con le supercar Ed è Tosto A voi invece Sta piacendo Sì A me si A me si Si Sharder safe Dai joystick Sì Sì Come la guidabilità Eeeh Non le piste nuove Mi devo trovare Non è che sono Perché è stancato Alla guida Che poi È stancato Alla guida Quindi è cambiato È cambiato Dall'anno scorso Sì Io lo vado Cambiato Io ce ne so Dico Non lo so Niente di cambiato Formula 1 Io sono Da joystick Per questo Che sto chiedendo Io ce ne so Formula 1 E questo Lo vado Sì Che bordello Ragazzi Ste macchine Questa Sarà una tortura Altro che fare L'urburring A oro Ragazzi Le macchine Normali E Manco Paragonabile Cioè Le macchine Normali E tanta roba Bruta Quello è Quello è il Bello Hanno messo Quindi Carina La macchina È Inguidabile Beh ragazzi Io mi devo riprendere La patente A quanto pare Perché Ho fatto Cagare Bravo La carriera Sapeticar Sarebbe stata Una figata Assurda Hai ragione Hai ragione Ho preso un argento Quello sarebbe stato Va bene Dai Cominciamo La carrierozza Allora Ragazzi Ciao Album Benvenuto Album Se non sei iscritto Iscriviti Immediatamente Al canalozzo Dai che arriviamo A 600 follower Stasera Grandissimi Dai 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 Formula 1 Grande Allora La scarmata Iniziale Mi piace L'auto Sì Molto bella Allora Ragazzi Abbiamo i contratti E abbiamo La cooperativa Quindi Stagione Personalizzata Ah ok Scusa Allora Grandissimo Per fortuna C'è la Giulia Ragazzi Allora Ci sono tutte le gare Mi sa 22 gare sono Penso proprio Di sì Ok Avanza Eh sai Giulia Se non ci sei te Come faccio io Non mi ricordo niente Ragazzi Scusami Albu Grandissimo Allora Frenata assistita No Devo rifare tutto da capo Allora Iuto sterzata No Freni antibloccaggio Sì perché è una balla Medio Traiettoria dinamica Solo curve Perché non mi ricordo Marco pagami Assolutamente no Non ci vuole pagare Non ci vuole pagare Giudy Non ci vuole pagare Assolutamente no No E ho fatto mille Livre E non ho visto Un centesimo Non mi distorce Ciao Il boom di dieci Grandissimo Grandissimo Marco pagami Cerco pagami Ho fatto mille Mi ha pagato neanche un euro È una cosa assurda È una cosa assurda Marco quando mi paghi Allora Lord Lasciamo stare i discorsi di pagamento E parliamo di cose serie Allora mi piace tanto Devo ambientarmi Per azzittire subito Lord Così almeno Non mi vuole Quando saranno soldini Esatto bravo Bisogna Completare Allora Formato delle prove Completo Tentativo unico breve Come facciamo le gare? La qualità La qualità Tentativo unico Tentativo unico Sì Stiamo giocando in lobby? No Stiamo facendo campionato Sono voi due Io e Cardellino Dopo giochiamo però Dopo giochiamo Dopo giochiamo No no È il tempo di prendere un po' la mano Perché È infatti Anch'io perché È troppo facile oggi Marco guarda cosa dice Lord Sì sì Sarebbe troppo facile per voi Facciamo la sessione da quanto? Da 5 giri Breve? Sì dai 5 giri? No Il formato delle prove Formato delle qualifiche Allora Formato 5 giri Non si deve recuperare Per amare Possiamo fare Allora Metti qualifiche breve Allora Qualifiche breve Medio Medio Che sarebbero più o meno 10 10 giri Ok Allora ci sto Ci sto Ci sto Ci sto Grande Grande Allora C'è tempo del rumore Al rumore Al rumore Al rumore 75 75 75 Marco Nessuno ha visto niente 75 Tu non hai visto niente Chi è che mi ha fatto entrare questo personaggio nel party Marco Comunque lord ha detto non te lo fare il libro Se non mi da un euro il libro non te lo faccio più io Lord cosa ci fai dentro stasera? Tu non vedi da 2-3 giorni lord? Puoi anche star fuori dalle live Non mi vuole badare? No 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 Assolutamente no Assolutamente Assolutamente No Eccolo qui Cialderino Io mi dico Inizio la carriera Hanno aggiunto realismo sul giro Per me è bellissimo Poi ritrovi di boccia Giavato Devi azzeccare il tempo Orca Bmax Davvero? Incredibile Mi piace Mi piace Il tuo personaggio Cos'è Incredibile? Sono riuscito a completare un giro Incredibile? Amico Io stacco 3.068 Come stacchi? Come stacchi amico mio? Non ti sto seguendo Scusami Perché stacchi? Ciao lord Ciao lord Buonanotte Non so Non ho letto perché stacca Perché stanco? Qualcuno ha letto i messaggi? Ragazzi stiamo cominciando la carriera Formula 1 2 2 2 Dimmi tutto Ah l'invito Mi l'hai mandato Ah no lord Ma porca miseria lord Sai che mi confondi? Adesso te lo mando Sto creando ancora un personaggio No Te lo dicevo perché mi dicevi Del pagamento Il pagamento Ragazzi È una cosa incredibile Non si può pagare nessuno In questo mondo Aspetta che te lo mando Sto creando il casco Che fanno tutti schifo Dai ma che roba è? Cono nero Cono nero Ma fanno tutti cagare C'ha le stelline Ma porca Ma è messa Oh aspetta aspetta C'ho quali più fighi Questo mi piace No penso che ce l'ho già dentro Questo 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 Porca miseria Devo pagare C'hai ragione C'ho quali merdosi Va bene dai Va bene questo nero Ci facciamo dar bene il casco Mio dio ragazzi All'inizio è proprio C'ho 18.000 coin comunque Pure io Alla fine ho preso la Champions Oh grandissimo Io aspetto l'uno Marco Ciao Bruschetta Cosa che c'hai? Siamo con le auto ufficiali Ah ma usiamo le auto ufficiali No la nostra merdina Si aspetterà buoni risultati E certo Perché? Ma partite con Con la Ferrarina Va bene va bene Brusche Con la macchina più lenta che c'è Poi piano piano cresce Eh ma non c'è Sì Comunque non mi ha invitato Ti ho invitato adesso Io se un po' ho preso la standard Grande Ma sì ma Tanto Quell'altra Io non so che cosa ho comprato Ti dico la verità Penso di aver preso la standard Ma forse magari Non lo so No no Per passare a Champions 16 Non avessi giocato Altrimenti Ah sì Allora su Non ho la più pallida idea E non voglio neanche andare a vedere Quanto ho speso ragazzi Perché se vado a vedere Eh lo dico io 90 MUTO Che c'hai le Carla Che gli ho detto Che ho speso 15 euro MUTO Devi stare Ecco No no 15 euro Ma dai C'è fischia Costano tutti 15 15 euro i giochi ragazzi MUTO Marco Stai muto che poi non posso più giocare Marco tu ammoghi a Facebook No Ah peccato Almeno gli andavo a scrivere No 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 Però è su Discord E se scrivi Giuro che ti butto fuori Vero Pimax Lo buttiamo fuori immediatamente I giochi costano 15 euro ragazzi E' mai sbaratto Come si dice in Brasile Mai sbaratto Vuol dire Che costano poco no Si fa Dei buoni affari Mai sbaratto ragazzi Vi faccio imparare una parola nuova Io ti ho mandato Sti inviti Charder Però se tu non mi li accetti Ah ok Vero raga Max 20 Ci fai la cresta Bravo Pimax Così si fa Vero lord I giochi dalle 8 9 12 euro Costano Non di più Non di più 15 proprio in day one edition Carla L'ha fatto una volta euro MUTO Ragazzi mi scuso Mi scuso per la gente del party Ma giuro che non farò entrare più nessuno No Mai più entrerà nessuno in party Ma perché? Perché i messaggi possono cancellarli L'audio no Quindi Piantatela lì Ciao ragazzi Stiamo aspettando Stiamo aspettando Charder Scusatemi se tarda Ma questo ragazzo Non so che cosa sta facendo E stiamo incominciando la campagna Unirmi Bravo bravo Mamma mia Manuel Porca la visura 90 euro Sì sono le vacanze Che ho fatto In Macedonia Nel 1973 Sì sì Costavano 90 euro Allora ragazzi Bima che non ce la faccio più Con sto Manuel Continua a mettere i prezzi Prezzi non veri Dei videogiochi Ragazzi Tu dille a Carla Che è il gioco Che ti porterà in vetta A Twitch Quindi Bravo Bravissimo Questo mi piace Questo mi piace Carla è andata a correre Quindi non sta leggendo Le cagate che scrive Quindi poi cancellerò la live E siete tutti fregati No non la cancelli Ancora Dai Lo devi mandare Invito al mio amico Che non entras Vai No vai tranquillo Vai tranquillo Sono 56 euro ogni minuto Quindi Benissimo Stai fuori tutto il tempo che vuoi La sensazione è che dovevo ricomprare il volante Tra un metro Non so perché Aia Ragazzi io ho conosciuto un amico Che pensavo aveva il G29 E il G923 E poi mi ha detto Che ha il DD Pro E lì ragazzi Mi sono cadute Le cosiddette Balotas E non credevo Che c'era qualcuno al mondo Che avesse il DD Pro E ci sono rimasto male Vi dico la verità Pensavo di comprarlo io per primo Ma non è così Poi è caduta anche la lampadina Della Playstation Chissà come è mai caduta La lampadina della Playstation Sì guarda che figa Attento che io L'ho vista L'ho vista Eh sì Sì però non so per quale motivo Spara così tanto Vedi che si fa fatica a vedere Il quadrato Eh come mai Forse è una questione di angolazione Ciao ragazzi Allora se Probabilmente non riusciremo mai A creare una lobby Con un amico Sharder Che è Mi ha mandato la pubblicità Nooo Aspetta che la mando ancora Tre minuti Ahahahah Io ho già il GT2 Nella Trasmaster Ho speso un botto E beh il Trasmaster Amico mio Bimax Stica eh Non si possono dire le parolacce Nel mio Nel mio canale Ma stica Stica si può dire eh Trasmaster sono 600 bombe Eh Provo io dai Dai provate Mamma che rottura Oh non riusciamo mai Aspetta aspetta Lo stai facendo tu Che padre Che barba ragazzi Ma per quale motivo Non riusciamo mai Giocare insieme Io e Sharder Allora mi faccio vedere Nel frattempo Che lui fa Il La mia Negozio brand Marco Anche quello Ho pagato Una cinquantina Non dire Più che sono fesserie Esatto 50 euro Bravissimo Bravissimo Vedo che hai capito Tutto dalla vita Esatto Esatto 50 euro Il Trasmaster Sì sì 50 euro È vero È vero Chi sta fischiettando Che gli taglio le gambe No Nessuno Ma perché le gambe Eh perché non posso dire Che cosa ti taglierei Non si può dire Nella live Ehi fatti Scusa Giulio C'è uno che fischia Ma gli taglieremo qualcosa Che non sono le gambe Prima o poi Il birillo Bravo Il birillino Ok Vai Vai Giuro che ti muto No Allora No 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 inviti io eh Guarda che ti segnalo hai detto un'auto Non lo invito Ma mi hai mandato l'invito amico mio No 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 No, praticamente lui l'ha creato, deve andare nella sessione che l'ha creato, quindi va di nuovo a molti giocatori Capiamo i due giocatori Stiamo capendo ragazzi come fare, eh, questo, c'è Sharder e io, quindi dentro dentro? Ah, entra, entra, c'è già Sharder Ci sono, vai, vai, dobbiamo avanzare io così Vuole mutare, tagliare i bidilli, banali, è vero Lord, è vero Eh, ce l'abbiamo fatta, finalmente ragazzi Andiamo a girarci la prima gara, weh, Dozzi sente rimbombare le voci Voi ragazzi sentite il rimbombo? No, 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 no Forse di un altro ragazzo, non da te Io non lo sento ragazzi, poi non so voi come sentite, fatemi sapere Lord e degli altri Sì, Bimax dicono, Orca la miseria, degli altri Aspetta, no, perché le live Corri in bombo, ragazzi, sono veramente Ti prego di non fischiare, giuro Ti muto a zero, eh Ti muto, aspetta Facciamo così Allora, ok, Manuel lo mutiamo Ok Perché hai rotto questi fischi Ok, vai Ditemi se è un po' meglio Allora Allora Facciamo avanzare, sembra che parli il Papa Ma no, ma davvero, è così la live No, è bruttissimo quando è così, raga Vedete perché non faccio mai i party Perché fanno queste cose qui Aspetta Chiudi Bella raga Ok, perché siamo l'auto, amico Nella mia live, nel mio telefono Boh, non va E vabbè, dai, ci sta Ci sta Avemus Un Ferrari Avemus Un Ferrari Ah, grande lord Grande lord Grazie ragazzi Grazie del vostro supporto Grazie, grazie, grazie Dai amici Andiamo Avemus Un Ovas Ferrari Dai, dai, dai Allora, fa avanzare il tempo Ok Andiamo al Gran Premio del Bahrain Che in teoria dovrei conoscerlo Ok, sei pronto? Prontissimo Vai, prontissimo Spray Allora ragazzi Guardate il nuovo Formula 1 2022 Siete su Marco Drums Games Channel Siete in compagnia del grandissimo Sharder Design Che facciamo la carriera insieme Manuel e il grandissimo Andrea In party Quindi loro fanno l'eco Quindi se è colpa di qualcuno È colpa di Manuel e di Andrea Che fanno l'eco Quindi frustateli 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 Vanno trattati con la frusta Allora, io vi posso dire una cosa Che ho notato subito da quello dell'anno scorso I caricamenti sono più lunghi E c'è anche questo qui che parla Che non so che cazzo da dire Sentiamo cosa dice a sto scemo Oh, oh, Bukstonston Sta presentando È un piacere Sta presentando la safety car di Venere Sì, sì Bravo Lord Bravo Lord Passa la cera Togli la cera Diagonale Cerchio Cerchio Le gomme sono veramente I cerchioni Quelli che hanno fatto questi cerchioni Penso che li hanno presi Non posso neanche dire dove li hanno presi Cerchioni sono due per Per diciamo l'auto Incredibile Sono bruttissime le gomme ragazzi Una volta c'erano quelle belle razze Belle fatte bene Davvero? Ah Ma sono in carbonio Vero raga? Sì Ma quelli dell'alpa Sono 18 pollici Quest'anno Ma quelli sono 20 Quelli dell'alpa Sì, ma quello è vero Quello è vero Quello è vero Quello è vero Va bene ragazzi Mi piacciono talmente tanto Questi cerchioni Che sono i più belli del mondo Va bene? Ok, va bene No, no No perché Bimax ha scritto Che gli piace e li ama addirittura Bimax ha scritto che li ama Allora Va bene ragazzi Mi piacciono anche a me Ci sta, dai Ci sta Un attimo di stizza Di Marco Drums Games C'è Olivia che sta cercando Il suo posticino Che è stato preso Da un palloncino Olivia Butta giù il palloncino Scusa Che è Olivia? Olivia Olivia Ma che oliva Olivia La mia oliva Oliva Che cazzo non oliva Porca miseria ragazzi Quei hanno bevuto Hanno bevuto ragazzi Ok Strategia di gara Io vado con la strategia Voglio già incominciare a No Sei serio? Perché sto vedendo dal dentro La prima La prima Non la potete abbandonare Ti pare? Ovvio Andata a schiattare Quanto muro Benissimo Beh Potrei anche farlo Ma già di mio Non la potete Sì ma siamo dati dritti Tutti o due Charder Mi sono anche girato Ragazzi Allora Vedete Se fate il giro in girello Sul 22 È più bello Quindi Di Giavi è una cosa in più che ha il 22 rispetto al 21, ragazzi. Allora, l'erogazione del motore io la preferisco su questo qua, eh. Vi dico la verità. Olivia e la chiamiamo Holly con la H. Holly. Beh, ma anche senza, anche senza va bene. Con la H è internazionale. Sai che io sono un po' un youtuber streamer internazionale. Si può scrivere anche senza. In italiano è senza. Se volete essere internazionali si scrive con la H. Sciarderino lo vedo che ha un po' bevuto, eh. Ragazzo, mi sa che la nostra carriera comincia nel peggior dei modi. Oh mio Dio! Ti chiedo scusa. Malissimo comincia, ragazzi. No, il primo lettone. E vai! Benissimo, guarda. Benissimo. Bene o non benissimo, ragazzi? Bene o non benissimo? Marco, frena. Mamma mia. Ma Sciarder frena in posti che non c'è da frenare. Non c'è problema. Il cambio è manuale. Oh mio Dio, ragazzi. Incominciamo la carriera più lunga del pianeta, eh. Questa carriera qua penso che sarà molto, molto dura. È povera Ferrari. Ma sicuramente ha fatto meglio a far dire come un telecomitore. Eh sì, no, no. Fammi fare qualche giro qua, è un disastro. Charles, devo entrare in box. Cosa fai? Beh, ragazzi. Burnout. Oh, Lord dice che c'è una nuova modalità aggiunta. Burnout. Burnout. Grandissimo. Oh, bello. Io faccio quello che voglio. Il mio canale parlo come voglio. Ok. Forza. La visuale deve andare da fuori, mi sa, sai? No, 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 no. Non ho mai visto il tasto. E come fai? Ma non è il tasto. Deve applicare option. Ciao, Monster. Ciao, grandissimo. Non si può aumentare perché siamo in due, vero? Diminuire, vuoi dire? Sì. Buona serata, Monster. Ciao, amico mio. Ciao, amico. Ci vediamo domani sera. Domani sera se ci sei, Monster, ci facciamo Fall Guys. Se siamo in dieci ci facciamo una privata tutti insieme. C'è anche Kitsune e Morris. Quindi mega seratona domani sera. E invece torniamo giovedì con Formula 1, eh, raga? Ma domani che cazzo di giorno è? Domani mercoledì. Sì, è giusto? No, domani martedì. No. Sì. No, no, bro. No, bro. Non puoi fregare Marco Danz Games Channel. Allora, ok. Io oggi ho fatto i pezzi della ditta tetrapa, quindi oggi è martedì. Ok, programma di nuovo. Esci, esci, esci. Ciao, amici. Come state? Come state? Domani è il 29 mercoledì. Brava, Giulie. Grazie, grazie, grazie. Perché qua Manuel fa un po', eh. Dice un po' le gazzate. Le cavolate, scusate. Non si può dire quale. Però Manuel mi sta tirando fuori un po' scemo, eh. Quindi, Manuel, stai calmo. Stai calmo, perché già la Formula 1 qui mi sta un po'... Sti cerchi da 18, ragazzi, hanno un po' un diametro che non mi piace, eh. Ma lì c'è quelli da 18. Io li ho messo, ho messo quelli più, più figli. Io? Perché sennò io la mano fa, allora faccio il manuale. Perché a me mi si gira sta macchina? A me mi, non si dice, ma io lo posso dire. Allora, impostazioni. Ho dovuto guardare un video su YouTube, perché non capivo, anch'io, non mi trovo benissimo quel volante, adesso che ho messo queste impostazioni un po' è meglio. E quale sono? Condividere un glupus. Aspetta un attimo. Ma non è questo, scusa, consigliato il manuale. Cioè io lo uso, ah no, eh, forse... Allora, consigliato il manuale, se ho capito bene, puoi utilizzare sia l'automatico che il manuale, attuale... No, eh, praticamente consigliato il manuale mi si gira la macchina. Eh, ma io ho messo cambio consigliato e manuale, eh. Ciao Bragali! Ciao amore mio, due chilometri arrivi, grandissima! Dai, prova a vedere adesso se è cambiato qualcosa. Ciao amore mio, stai vedendo il grandissimo Marco Drums Games mentre stai correndo, bravo amore mio, c'è un mito. Visto che è bello, che bel numero ho costituito. In realtà sto... Correndo. Faccio un po' fatica a correre e leggere con questo gioco, ragazzi, è un po' come all'Urburring, eh. Guarda, io ho toccato da qua. Sì, grande. Ma sono proprio delle importazioni da fare? Sì, è nella calibrazione del volante. Non so, è un po' troppo duro. Dio mio, ragazzi, buttate fuori questo manuale dal gruppo. Immediatamente. Immediatamente. Carla, sta facendo il... Come si chiama quello lì? Il napoletano, quello tutto colorato. Non mi ricordo neanche come cazzo si chiama. Come si chiama, ragazzi? Quello lì del palio, che è tutto... Arlechino, sta facendo l'Arlechino, dai. Sta facendo l'Arlechino, Manuel, stasera. Sta giocando coi prezzi. No, non sta dicendo niente, amore mio. Tu non hai visto niente, tu non sai niente. Qualificato, benissimo. Va bene, ma non benissimo, ragazzi. Uno squalificato... E l'altro che è quattro giri che si sta girando in tondo. Ah, bella, ragazzi. Allora, vi dico che... A livello di gameplay mi piace, però, eh. A questo Formula 1 2022, ragazzi. Ma come non fai cambiare visuale? Il Gran Turismo è un po' nello stesso, c'è, saturazione pura. Sì. Eh, vi trovo, non lo so. Allora, io... È un bel inizio, Albu. Hai ragione, amico mio. Anche Albu dice, ragazzi, che è un bel inizio campionato questo qua. Veramente, veramente top. Grande. Grande. Oh! Mamma mia, ragazzi. Ma come mai va fuori così? Ma anche a voi capita, ragazzi, che vi va fuori come... Come se fosse una barchetta. Dici? Ma ci vuol tanto fare impostazioni? No, 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 niente, niente, guarda. Allora, ragazzi, proviamo queste impostazioni, perché sinceramente... Eh, eh... E poi a metterle come prima come fa. Allora, fammi vedere un attimo. Visuale, impostazioni, come faccio a tornare... No, esci dalla lobby. Sì, io farei sì, ragazzi, e andrei sul Gran Turismo. Però, no, lasciamo... Comunque, va che se vai sul menu di pausa... C'è qui la visuale... Guarda la mia live, Sharder. Eccolo qua la visuale. Pod, offset... Eh? Me la levo, me la levo. Quella è quella. Eh? E come no? Allora, c'hai un coso buggato. Allora, fammi vedere. Eh, no, no, che è proprio il coso. Allora, la zona morta? Zero. Ah, allora, 60. La saturazione di sterzata, eh? Sul G29, giusto? Sì, 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 è uguale al mio. Ah, dove cacchio, eh? Il... Comandi e S-Force. Allora, Logitech G923? No, no, devi andare in calibrazione, vibrazione, post feedback. Wireless? Ah, impostazioni generali? No. E io ho wireless? No. In sessione non te le fa fingare, post-pagli. Comandi, vibrazione, post feedback. Ok. Ok, da lì puoi cambiarlo. Eh, ma dove? No, non c'è scritto calibrazione. Non c'è scritto calibrazione. No. Eh, guarda, la live. Aspetta, aspetta. Sì? Devi andare su Logitech. Logitech. Modifica, duplica, annulla. Modifica. Modifica, modifica, modifica. Calibrazione. Ah, vedi? Vedi? Allora, saturazione dicono 60 addirittura. Grande, Albu, grazie, grazie. Allora, 60, ragazzi. 60 è tanta roba, eh. Io non avrei mai fatto una modifica del genere. 60. Poi c'è... Saturazione... 6. Poi c'è la dati come voi tu. Io mi sto trovando bene, non so. Ok. Poi c'è il penultimo. 4. Queste sono delle impostazioni, ragazzi, che se volete posso venderle al miglior offerente, ragazzi. Ok? Quindi se avete bisogno di queste impostazioni posso... 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 Ci contattiamo e posso venderle, vede. Ok? Come venderle? Eh, beh, certo. Marco potrà fare cose gratis. Allora. Giusto? Giusto, Andrea? Allora, segnal... Allora, io faccio così. Salvo le impostazioni come Andrea. Ok? Che se fanno schifo poi c'ho da chi dare la colpa. Bene. Bravo. Oh! Vediamo, eh. Vediamo subito, ragazzi. Ho riscattato bene. Aspetta, aspetta. Mi sono già girato, eh. Fai lo screenshot. Fai lo screenshot. Tranquillo, Marco. Aspetta, fammi dare un attimo se il volante è migliore o no. Scusate, ho proprio sto... Eh... La sezione non mi fa cambiare niente. Bella, Davide! Ti sta piacendo, Davide? Di me? No, non mi piace. Sì, dimmi. Praticamente aveva anche lui lo stesso volante, il logic, no? Sì. Se vuoi sudare le sue... Le sue cose, le sue impostazioni. Assolutamente sì. Se non te lo dico, ok. Aspetta che gli rendi... Eh, se le puoi condividere molto bene, così magari me le vedo anche io. Infatti. Sì, puoi te le doppure io. Poi, ragazzi, se avete bisogno, io le vendo. Benissimo. Bene, bene, ma non benissimo. Ragazzi, qua siamo streamer. Gli streamer vanno solo a Big Money. Se non si fanno i Big Money, che cosa siamo qua a fare? Oh, un bel alettone ruota! Alettone ruota, ragazzi. No, almeno fai una pasta qualità. Ah, che bello! Bene, ma non benissimo, ragazzi. Due ritirati! Due ritirati, non c'è la miseria. E Hamilton vince! Marco Drums, ottavo, però, amico mio, eh. Tu dove sei? Fammi vedere. Fai abbastanza schifo, Shardler, eh. Come schifo? Sì. Cazzo, sei ultimo! Cambio, cambio, cambio. Allora, ragazzi. Marco Drums cerca un uovo. Condividi le su Discord. Ragazzi, iscrivetevi al canale Discord per avere le impostazioni dell'amico di Manuel. Grande, Giulio. Aspetta, Marco, non fare... Possiamo fare qualifiche, eh? Sì, basta che faccio qualifiche. Ficca su qualifiche, però. Come non iniziare il Formula... Esatto. Dovangiamo le impostazioni. Sì, aspetta, ho capito. Come non iniziare il Formula 1 2022. Vi stiamo facendo vedere come non iniziarlo, ragazzi. Non vi stiamo facendo vedere di fare come noi, eh. Ok, raga? Quindi l'importante è questa cosa qua. Allora, impostazione non c'è qua. Ah, sì che c'è, impostazione. Aiuti. Cambio, consigliato o manuale? Va bene così? Eh, ma io non gioco con l'automatico. Eh, ma qui non me lo fa mettere il sciarderino, mi fa o cambio consigliato manuale o manuale. Uno di due. Eh, cambio, consigliato manuale. C'è scritto, consente ai giocatori di selezionare il cambio. Quindi è questo qui, eh, non ce n'è. Vabbè, usa il manuale, sei che veloce. Oh, ti do le impostazioni del volante. Mi giro tanto. Non ho visto la condivisione della impostazione del volante su Discord. Ah, ah? No, non le ho viste. Quelle di Manuel non le ho viste. Ho viste solo quelle di Andrea. Ah, non le ho viste io. No, no, la tua sì, l'ho fatta. Non mi sono trovato abbastanza bene, eh. Mi sono trovato un po' male. No, in realtà l'ho provato in dieci secondi e mi giravo anche prima. Però poi le proverò con calma, in offline. Questo deve essere il nostro trucchetto, Andrea. Non bisogna dire trucchi alla gente. Allora, bevi, bevi. Ragazzi, dai, iscrivetevi al canale, amici miei. Tre follower, arriviamo a 600. Dai, amici. Su, 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 su. Iscrivetevi. Fate l'account al cane anche. Ma Sharder, vuoi partire o no? In attesa del giocatore. Cosa devo fare? Aspettami, no? Mi danno uscire. Pianto, pianto. Manuelino fa il bravino, ha detto la Giulia. Manuelino fa il bravino. Allora, disconnessione tra? 12, 13, 14. Ah, no, vai in su. Contando che l'idea sia buona. Contano anche gli S sia buona, no? 22, 23, 24. Non ha capito cosa ha detto il mitico Lord? Vai, drums! Grande, braga lì! 3, 3, 3, 2. 30, 30. Ciao, Carlina! Eh, sta correndo, sta correndo. Sta correndo con mio figlio Vittorio. Il gioco di zombie? No, è un gioco di Formula 1, ma il mitico Sharder penso che è andato a farsi un giro. Perché non lo vedo. Non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio. Tanto facciamo schifo uguale, Sharder. Non è inutile che la scusa è che non cambi tu, non c'è il cambio automatico. Dobbiamo abituarci, ragazzi. Dobbiamo abituarci a questo nuovo gioco. Camminata. Sì, sì, è un altro gioco, ragazzi. Davvero, davvero, hanno ragione. Camminata sostenuta, brava. Ma non è vero, siete bravi. Grazie, Giulia. Grazie, grazie, grazie. Un chilometro arriviamo. Ok, bello, bello. Grande, amore. Dai, così vieni qua un po' con noi. Ti sedi qui di fianco. Bravo, bravo. E mi porti una birretta, amore mio. Una bella birretta, eh. Dai. Che ci sta. Allora, ragazzi, non si beve quando si guida, eh. Assolutamente. Pure. Allora, io a livello grafico lo vedo molto bello, eh. Però nella parte della pista non ci vedo molte... Ci sta la birretta. Dai, dai, la billettina fresca, madre mia. Non ci vedo molta... Nella pista molto cambiamento. Voi cosa ne dite, ragazzi? Cosa ne dici, Andrea? Cosa dico? Eh. Io il confronto lo faccio con un gioco che non ha niente a che vedere con il Formula 1. Cioè, Gran Turismo è tutto un bravo, però c'è molta vittura, secondo me, nel dettaglio, al di fuori della pista. Quale? Con il Formula 1? Nel Gran Turismo, sicuramente. Ah, nel Gran Turismo, eh beh. Però io ho visto molti in Vincenzi e per l'anno 2021, ma secondo me, qua c'è un po' più dettaglio nelle vetture. Sì, 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 sì. Però è un po' la situazione che... Io so che non devo mai parlare così perché io ho tutte le console, quindi... Però è un po' come quando giocavo a Forza Horizon 5, no? Il Forza Motorsport 7. Io lo vedo bellissimo, curato, con dei riflessi della Madonna alle macchine. Infatti, però lo vedo finto, nel senso, troppo colorato, ok? La vita non è così colorata. Esatto, hai più avuto la sua impressione. È la stessa impressione di tutti i Forza della Xbox, che sono troppo colorati, bellissimi, curati, riflessi, tante robe. Anche quello nuovo, hai visto il filmato, no? Minchia, addirittura c'è il ruscello di fianco, fanno anche tutte queste cose qua. Però non... Nelord, sono troppo... Gran Turismo, io lo vedo molto anche lì che dicono la pioggia è fatta meglio di là. Sì, ma io lo vedo molto più realistico Gran Turismo 7 rispetto ai Forza, che sono dei giochi fantastici, ragazzi. Io il Forza Motorsport 8 lo porterò al Day 1 Edition, quindi è l'unica cosa che devo far capire come giocare con la G923 con la Xbox. Perché non funziona. Non si può stare, è malato, tra voi. Eh, mi hanno detto che c'è uno scatolino da comprare con 15 euro e funziona. 15 euro, ma non ho più beccato poi il ragazzo che me l'ha detto per dirmi che scatolino è. Perché io sono andato su Amazon a scrivere scatolino Xbox, ma non è che fuori niente. Ma ce l'ha, c'è una volta abbattato ora. Eh, prova a cercarlo tu, dai, che tu sei un po' più in gamba e io non c'ho voglia di cercarlo. Sì, sì, dai, dai. Dai, non te lo faccio io. Grande. No, perché sinceramente se c'è fuori Forza Motorsport 8, tutti quelli che hanno il pass ce l'abbiamo, ci possiamo giocare insieme. E non giocare col volante sinceramente non ha senso. No, perché hai dato sta cacata, ma non devi smetterla. Ah, non c'entri niente, eh. No, perché mi sono girato. Ma no, mi sono girato. Sì, no, ci credo. Madonna, ragazzi. Manuel mi ha fatto girare, eh. Non è colpa mia. Manuel mi ha fatto girare, raga. Oh, comunque t'ho mandato il baby e non l'hai bevuto, eh. Sì che ho bevuto. Manco vedi, eh. Ragazzo, devi stare più attento, eh. Ho bevuto due volte, ho bevuto. Ehi, beh, io ho bevuto due volte perché ce l'ho sette. Dica, vado a comando, cioè. T'ho mandato pure il baby e il baby. Eeeh, è andato l'alettone, raga. Bravissimo, Marco. Tu come sei messo, Charder? Allora, possiamo capire che Zhu Wang Gong ha fatto il tempo della... Siamo messi malissimo, ragazzi. Non so, Zhu Wang Gong ha fatto il premio. Dai, raga, dai, andiamo piano così che almeno gli altri non fanno il tempo. No, ragazzi, non ci credo. Che inizio brutto, ma brutto, ma brutto. Posso fare un altro giro? Ah, non è tentativo unico. Ah, per fortuna. Riscattare, eh sì, eh sì. Tanti, eh. È vero. Adesso ti do un bacione, Emanuele. Muah! Esatto, Lord. Anche il Dirt è molto più colorato. Cioè... Ma sono molto colorati. Invece il Dirt 2.0 è vecchio, ma è molto più, secondo me, più realistico. Come colorazione delle ambientazioni, delle cose. Invece il Dirt Rally, o quegli altri, o anche quell'altro che non mi ricordo più, lì, che è molto arcane. Sono tanto colorati. Tanto colorati, capito? Sono quasi finti. Io voglio un gioco che mi faccia divertire, quindi va bene qualsiasi roba. Però, io trovo il Gran Turismo 7 più realistico. Tu cosa ne pensi, Andrea? Secondo me, è più realistico se il tuo corso, come guida bianca. No, no, aspetta, aspetta. Però questo è un rituato che mi parliamo di grafica, eh. No, io dico di guida. No, no, grafica. Guida sicuramente. Guida, certo, eh. Ah, ok, ok. Guida sicuramente, questo è un corso. Però, graficamente, Gran Turismo è... Ma, a parte proprio di più come... Ma, porca loca! C'è anche la cosa di Gran Turismo che è... No. Beh, però è solo un campionato, è un realistico su GT3 e GT4. Cioè, è nato così, eh, a setto corsa. Corri con le due categorie e basta. Le due categorie e le sentiremo parlare del miglior gioco di base. Hai voglia? Ora, ha scelto la FIA, eh. Come gioco da usare in eSport. Eh, cioè. Adesso voglio dire tutto, ma sta ditta italiana qua ha fatto miracoli, eh. Ma io ci giocavo dal day one. È molto bello, è molto bello. Il problema è che è troppo realistico. Quindi, se vuoi divertirti, io sinceramente non mi diverto. Poi, ci sarà probabilmente gente che fa tutto perfettino, sta muta. E sta concentrata e tutto. E sicuramente è un gioco perfetto. Però a fare come... A fare come faccio io, che devo fare le live e parlare e prestare attenzione a quello che dite, a setto corsa diventa quasi imbarazzante perché sono sempre fuori. Il pubblico di inizia... Eh. C'è difficile? Sono arrivato a rimo. No, vabbè, vabbè. Aspetta a girare. Bene, ma non benissimo, ragazzi. Allora, il mio compagno di scuderia dice che non riesce a girare. Io mi sono girato sei volte in un giro. Andiamo benissimo, ragazzi. Cercasi, compagno di scuderia. Eh, Giulia, cercasi il nuovo compagno di scuderia. Non posso fare il cambio manuale, porca. Ma perché ti fa mettere il cambio manuale? In sessione, non me lo so cambiare. Chi è stato questo? Io. Ah, qua, qua. Eh dai, dai. Sposti via via. Stiamo a prendere. Che è finire la mia tour? Hai chiesto a tutto sto cosa? Manuelino. Non farti mutare, amico mio, non si può fare quale cosa lì. Ma tu hai iniziato da F2 o direttamente nel treno? C'è da mia mano. Chi ha ruttato? Chi ha ruttato? Dicevo a chi ha ruttato. Eh no, io ho ruttato. Sì, sì. Occhio che mi banno tutti, eh. No, almeno banno pure Shard. No, Shard no, perché è il mio compagno. Marco, scusa, ti rispettavo la domanda. Ma hai più iniziato da F2 o da F1 in carriera? Qui? Ah, forse per quello che ho sbagliato, eh. F1? Faccio la F2 dove è la prima volta che ho fatto il F2? Eh non lo so, anch'io pensavo di cominciare dalla macchina scarsa e invece stiamo già correndo con le Ferrari. Quindi stiamo facendo far brutta figura alle Ferrari. Scusate Ferrari. Mi chiamo la F2, dai. Eh che vanno un po' più lente, mi sa, è meglio, eh. No, aspetta una cosa. Carriera normale, in giro per il singolo, ti faccio scegliere se andare in Formula 2, quindi inizia in Sama 2, o farti la tua scuola via, di crescere piano piano. Ma, se no, in coca, come state facendo voi adesso, ti va direttamente in Formula 1 a scegliere il tipo. Ragazzi ma non c'è un qualcosa tipo il TCS qua? In, che si va... Io l'ho tolto. Hai tolto il TCS? Sì, ti ha detto di fare dei problemi. No, io lo voglio mettere, ma di brutto perché è impossibile, non riesco a... Nooo... Ma, come dire, hai più costanza dell'auto che stai... Cosa dovrebbe essere? Trazione e controllo, controllo trazione. Eh ma, mi giri, si gira? Va, va, si gira? Cazzarola. Cazzarola. Guarda, devi andare in controllo trazione e il figolo giro. Ma basta che fai spesso. Eh, postazione sull'azione o è una postazione aito? Aspetta. No, ma, in pista c'è, la sessione non fa cambiare in postazione. Non fa cambiare. Solo meno, ma non in più. No, controllo trazione. Eh, non fa... Eh no. Ah, che disastro ragazzi. Oh, a muro? No, grandissimo. Grandissimo, Dramas. Ok. Oh, non sono andato a muro. No. Dai, usciamo perché se no è veramente facciamo una cosa ridicola. Allora, usciamo. Andate a muro, fate prima. Marco Dramas non andrà mai a muro. Ok. Vai. Come prima. Mai a muro. E se cominciamo, amico mio, dalle macchine un po' più scarse, invece che questa qui che sono... Non puoi. Come no? Chi l'ha detto? O vai nella scuderia, cioè, la più lenta che c'è, ma non puoi andare in Formula 2. No, meglio Formula 1. E tu qual è la scuderia, ok? Va bene. Dipende. Non me ne prega niente, però. Io andrò bene. Contratti a... Marco, se fai i contratti, vi potete dividere in due... in due team diversi. No, dobbiamo stare insieme. Eh, impostazioni. Allora, aiuti. Arrivo, vado a prendere il giolato. Chi è Science dei due, Marco? Science dei due. Chi è Science? Tra te, tra te. Ah, io ho le... Io ho il Marco Dramas della Clerc. Scusami. Come fai a dirmi chi è Carlo Science? Ma ragazzi, non mi fa cambiare... Devo farne un'altra, dai. Bisogna fare un'altra, Shard, aspetta. Che balle. Eh, tanto, la prima è Marco, giusto per... Dobbiamo impostarci le cose con... Eh, sì, dopo impostate facciamo le cose serie, perché qua stiamo facendo soltanto delle magre figure di cioccolato. Nuova campagna, cooperativa. Personalizzata. Smettetela a parlare di mangiare. Se no, vi butto fuori. Impostazioni? Ai, ai. Allora, restrizione aiuti. Eh, che cavolo, non ce l'ho il gelato io. Smettetela. Dite che state mangiando un... Un Wuster. Non danno il gelato. Allora. Automatico, va bene? Così poi dopo lo imposto io da dentro. Eh... Ok. Aspetta che c'è Andrea Giulia che... Controllo trazione. Facciamo completo perché mi sta una... Una rottura. Fai l'antibloccaggio. Smettetela a questi gelati, io non ce l'ho. Ma non vale, raga, raga. Vada, senta che cattivi. Eh? Ma no, è... Ma no, è... Ma no, è... Ma no, è... Aiuti. Ok. Quando si apri. Cambio. Va, metti automatico. Per vedere se... Ok. Eh, ma io lo cambio. Perché poi me lo ricambia? Sto scemo unito? Automatico. Ok. Completo. Oh. Perfetto. Struttura weekend. No, completo non lo voglio. Attentativo unico. Ok. Breve. Va bene. Ci sta. Impostazione simulazione. Aspetta. Quanto c'è di percentuale alle gare, amico? Eh... Breve. Eh... Breve sarà il peggio. Eh, sarà cinque giri, credo. No. Eh, l'altro di marzo. Dopo... Dopo... Dovevi mettere medio, Marco. Medio. Non riusciamo a fare mezzo giro, vuoi farmi medio? Ahahahah. Ragazzi, incredibile. Metti qualifica breve. Il problema è che cambia un'ora e poi non fa una cosa. Per quello mi girava, no? Non c'era neanche lo visuale dal muso. Non avevo tutto lo visuale dell'auto. Ok. Ci abbiamo le impostazioni che volevi te, ok? M su tentativo unico. Breve quanto è breve? Saranno... Meno di dieci minuti. Sì, per questo. Non va, basta. Non possiamo unico. Vai. Allora. Salta. Invita un amico. Ok. Stavolta stacco sul serio. Nooo. Va bene, va bene, Lord. Grazie che sei passato, amico mio. Buonanotte. Ciao, Lord. Ciao, personaggio. Notte, notte, Lord. Notte, notte, Lord. Ma che palle. Tuttavia, bisogna fare... Bisogna fare il personaggio. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzo. Ciao, amico mio. Ci vediamo domani sera. E se vuoi giocare con noi, siamo in dieci, facciamo un Fall Guys da paura, eh. Ok? Io non vedo. Bene. Ok, ho fatto tutto. Avanza. Sì, dai, il casco va bene. Tanto tutto, tutte delle schifezze. Ti farò sapere. Grande, grande, grande. Allora, qui volevo capire, vedi? Trattative di contratto. Non c'è la nostra Sharder. Sono solo le fighe. Che cosa corriamo? Vogliamo correre con l'Alfa Tauri? Oh, vi do un consiglio. Partite con l'Aurius. E poi piano piano fanno fatto i tiri. Partiamo con l'Alfa Romeo? Ti piace l'Alfa Romeo? Vabbè, dai, dai. Abbiamo seguito il consiglio di Manuel. Io non l'avrei mai fatto, però vabbè. Non potevi dirlo prima. Non potevi dirlo un secondo prima. Un po' la senti. Non potevi dirlo? No, errore. Incredibile. Devi rifare il fatto. No, stai con l'Alfa Romeo. Ma cosa faccio? Ferrari o Red Bull? No, l'hai già fatta. Allora, Ferrari sempre. Sempre, sempre, comunque. Però... Io volevo qualcosa che si entrasse con la BMW, ma non sentavo. Ciao Giulia. Ciao amica mia. Domani, grazie di essere passata. Ci vediamo domani sera. Fall Guys domani. Sharder, vai Sharder. Dai, dobbiamo correre, perché se no qui stasera abbiamo fatto praticamente nulla. Vai. Ah, intanto si può cambiare comunque la sfideria durante la stagione, no? Credo di sì. Sì, 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 sì. Ok. E allora siamo umili e iniziamo... Bravo. Con la... Alfa Romeo. No. Con la... Alfa Romeo. Ah, facciamo... Alfa Romeo. Aston Martin. Mamma mia. Puoi fare l'inglese. Ciao ragazzi, benvenuti. Compagno di squadra, Sebastian Vettel. Ottimo, ottimo. Veramente, veramente buono. Ti è arrivato Sharder? No, no. Anche per la macchina, mi piace un botto questo verde. E' meglio il rosso. Allora, impostazione. Qualcuno mi riscatti, bevi, per me, grazie. Allora, tipo di musica. Allora, non c'è quello per streamer? Da disattivare tutto? Sì, c'è quello per streamer. Perfetto, disattiviamo tutta la musica, perfetto. Guarda che c'è quello là per streamer. Fatto. C'è quello per streamer. Fatto. 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 C'è quello per streamer. Minchia, ti muto adesso. Marco. Oh, dimmi. C'è quella per streamer. Oh, vi muto tutti adesso. Vi butto fuori. Non si dice, dice chi ha. Vi butto fuori dalla PlayStation. Adesso chiamo il mio amico Hans Vrittmann, che lavora in PlayStation America, e vi faccio buttare fuori a tutti, eh. Quindi state calmi. Io conosco Hans Vrittmann. Sì, eh. Hi, guys. Io sbutto fuori dal PSNN. Manuel. che poi sbaglio anche il nome, butta fuori un altro, poveretto, che non c'entrava niente. Dai, Shard, devi muoverti. Ok, via, 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 via. Di brutto, di brutto. Schiaccia subito. Ciao, ragazzi. Ciao, amici. Benvenuti in Formula 1 2022. Se volete iscrivetevi al canale. Mancano tre persone, tre mitici amici come voi per fare 600 follower. Guardate, ragazzi. Stasettimana dobbiamo per forza farli, eh, sti tre follower. Dai, dai, dai. Facciamo passare il tempo. Allora, il primo weekend di gara ti fa fare la prima prova libera. Se tu ti vuoi schiacciare schiacciare a Starder, quindi ti ritiri, vai subito in qualifica, se vuoi, quindi a me. Almeno ti salti 30 minuti di prova libera. Ma lo fanno tutti, sto lavoraccio. Sì, sì. Allora, ci sono 101.000 spettatori, raga, eh. Dai, Shard, giochiamo, perché ci stiamo mettendo troppo. Ok. 101.000 spettatori, raga. Io non mi vedo dentro tra questi. Come mai? Oh, guarda che è messo Formula 1 2021, Marco. No. Sì? No. C'è scritto? No. 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 C'è scritto? Sì, licenziati al primo turno. Dai, bellissima. Bellissima. Ciao ragazzi mitici, dai, partiamo subito, subito con la Alfa Tauri e cerchiamo di andare con calmi. Cosa? Ma oggi rimani un po' di più, visto che è il day one. Eh, dai, dai. Ma va, va, va. Non lo so. Credo proprio di no. Schiacciare a Sto, vai, Shard. E io voglio lavorare. Dovevi lavorare. Ecco io. No, no, non è vero. Domani sono libero. Però in realtà devo fare il lavoraccio domani notte. Porca miseria. Che balle. Eh. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Allora, facciamo una prova libera perché qua, ragazzi, solo qualifiche non ce la facciamo, eh. Schiaccia prova libera, amico mio. mi schiacci x shard l'occupato mi schiacci x amico mio da sopra no la lana merda vedi da sopra come si chiama sopra raga quando sei in sessione ti fa vedere qual è esatto perché tu vai quando stai correndo schiacci il tasto e selezioni e te la fa vedere subito siiii l'hai capito qual è ho ancora sto button dai il bookstone allora bookstone dai abbiamo già capito benvenuti presentazione intanto l'abbiamo fatto schifo anche primo in ferrari c'è un già licenziato lo sappiamo si grazie benvenuti sul campionato mondiale le gomme certo passa la cera togli la cera fai vai vai forse la cera quanto dicevo come utilizzare la spugnetta leo gomme con cerchioni bellissimi che mi amo tanto bigiacchi di più bari del mondo forse 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 dai box on vai dai 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 ciao box on ciao 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 ok ok voglio correre ho visto visto vai 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 sauber group mamma mia ma devono parlare ma perchè devono parlare tutorial gay vai in pista esci vai sono proprio bruttile queste macchine si te lo fa vedere abitacolo pad tv quella per me è la migliore perchè non te lo fa mettere scusa ma come è possibile te lo fa mettere subito ma vai a cagare dai ma perchè fa questa cosa ma non lo so quando mi riparte che riesco fuori dal menu mi va a sbattere devi tenere dritto il volante ok premio option shard e ci sarà scritto stile qualcosa non uscire Marco vatti a schiantare adesso ma che cazzo schianta ti schianta ti amico devo schiantare? si facciamo un'altra sessione di prove dopo bravo bravissimo vai direttamente qualifico no ma che qualifica ma sei fuori non dobbiamo fare un giro ma non vediamo niente però ma va vediamo farci eh 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 quello bisogna fare la qualifica che non ne fidiamo neanche uno che bello è ah no vai tranquillo vai tranquillo vai tranquillo muto allora vai charder al world station diamo un prova a due ok world station ok ciao amici e amiche come state eh stiamo scendo in pista grazie ok ti raccomando benvenuti Formula 1 2022 Marco Transgames e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto eh grandissimi dai 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 tu che non l'hai fatto adesso ti butto fuori eccolo qua vai forza forza vai alla sessione ok esci ok adesso spero che mi abbia dato a me il cambio manuale manuale eh perché se no ciao amici e amiche di Twitch Formula 1 2022 benvenuti benvenuti stiamo partendo con la campagna con l'Alfa con l'Alfa Romeo vai mi stai buttando i settaggi del canale a Cassus eh Emanuele eh che ti sei tolto ti sei messo dentro adesso non me l'ha contato bravissimo eh non mi ha contato follower eh no ciao amore mio come stai ciao amore mio guarda qua non lo riusciamo ciao ciao cosa è sta roba cosa il serifono amore mi hai buttato giù il drago mi hai buttato giù il drago no è vero come ti trovi Sharder vabbè oh dai anche a me adesso va un po' meglio ah non c'ho più la traiettoria ecco perché ok non l'ho messa forse bisogna imparare senza ragazzi è più impegnativo di quell'altro ve lo dico è molto più impegnativo questo qua del 21 oh non l'ho visto ma perché li fanno così piccoli i cosini del frenare raga cioè fatemi capire grazie ti butto fuori davvero mi fai distrarre per niente allora vai non si può scherzare quel polvo oh Sharder scusa scusa ti stavo venendo addosso non ti stavo venuto addosso però grazie perché mi stai distraendo ok dimmi ok così preferisco perché col controllo trazione un po' di più non mi va a girare ogni ogni roba però adesso devo capire è difficile è difficile Andrea ah sì mi scorda che non le facessero giuste dovrei tornare in mezzo ti arrivo a volante dici sì perché a parte che in curva vivo proprio lentissimo sì ha fatto la battuta Sharder è il primo grazie che sono nella live di Marco e gli vado molto bene così stanno qui bravo bravo anch'io 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 ringrazio che siamo in live in solito l'ho già buttato fuori ok bella ragazzi no si può scherzare può scherzare solo Marco Dranz no 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 non puoi sapere è è un semi giro non c'è Davide giuro che ti butto fuori grande Davide grande Davidino pettine verde aspetta a Davide devo pettinarmi guarda guarda Davide mentre giro guarda mentre scalo mentre scalo Davide guarda che roba che roba no assolutamente le live di Marco Dranz sono serie io la visuale che amo di Formula 1 è quella dal musetto sopra che vedi il casco vedi quel Roll Barley che non mi ricordo mai come si chiama e vedo ti butto fuori ti butto fuori ti butto fuori sto già schiacciando il tasto playstation te lo dico al prossimo ti ho già avvisato ti butto fuori e basta vada vada grande Davide grande Davide ti piace Davide tra l'altro ragazzi l'ha comprato anche Davide Shardel sta facendo il giro su veloci ma la faccia che non gli piace che non si trova no non è vero allora vediamo un attimo cosa ha fatto Marco 5 grande Shardelino ma perché non frena sta macchina più 5 secondi perché non frena sta macchina effettivamente Andrea tu hai provato a farlo col padre Andrea non mi dire che è col padre eh ho l'impressione ma perché ti chiami Andrea no dicevo Marco diceva Marco se si chiamava Andrea ma mio dio non ti rispondo neanche ti butto fuori e basta dai dai l'importante oh ci hai messo di mezzo anche Magunsen no non ci credo ragazzi no battuto da Magnunsen che tra l'altro come cacchia si pronuncia Magnunsen è un casino è un casino oh ti butto fuori allora buttalo fuori buttalo fuori ti sospendo se Marco Drams dice Magnunsen si dice Magnunsen punto allora allora si vai vai butta fuori butta fuori butta fuori ha rotto ha rotto buttalo fuori immediatamente non è vero Andrea ti vuole fuori anche lui non hai trovato proprio la persona giusta stiamo contando i secondi in cui ti buttiamo fuori no dai quarto addirittura mi stai deconcentrando ma non ti butto fuori eh ti giuro mi stai deconcentrando sto facendo schifo e in una live non si può fare schifo si fatti mi stai rovinando day one stai zitto mutati muto ti voglio ti voglio muto 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 stai parlando cacchia rola cioè io faccio una fatica impressionante a stare dentro col volante adesso voglio provare con quanto tempo manca io devo aspettare fino a venerdì ti arriva ad amazon dai davide poi nel weekend facciamo una bella sessione si grande manue facciamo una una mega si va bene tre parlo però di stare zitto perché sennò non si sente niente manue sennò ti butto fuori davvero eh allora manue eh no manue muto stai muto allora davide eh si nel weekend faremo senz'altro una bella sessione multigiocatore ok così almeno ci divertiamo un po' insieme e manue non lo facciamo giocare e non lo facciamo mai più entrare in party così imparo perché ha rotto le palle ma dai ma mi sto comportando bene no 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 stai dicendo che si iscrive gente che non si iscrive mi hai tolto il follower e l'ha tolto e l'ha tolto dal conteggio mi stai comportando malissimo aspetta non rimedi non ti stai comportando no aspetta aspetta un secondo allora aiuti allora aspetta un attimo che automatico vediamo col pad se ok ti dico subito Andrea la differenza da pad che tra l'altro oh non può andare tutte e due no non ci credo non funziona il pad del volante si no perché perché non va ma si che va oh lo prendo quando va non devi non devi non devi premere no dai ma non è possibile così ma come va un incidente incredibile cosa è successo non devi toccare il volante no no non va fa girare il volante e non funziona allora ho per caso schiacciato esci dalla sessione mi sa di si sai no anzi esci dalla carriera incredibile tu sei dentro si si ma tu puoi giocare mentre uno esce figa sta cosa bella 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 sta cosa molto carina no la tolto e basta se fai queste cagate qua la togli e basta ma io io non sento più Manuel ok dai no così no come si fa a fare il scusami ma io non ho capito una cosa ma non ho capito scusa un attimo ma che cacchio è allora spiazza ti sospendo ok aspetta partecipa dai bravino vino ok dai così restituiamo un po' di tranquillità modalità spettatore perché no non devi uscire ah vabbè quanto manco eh vado bene quanto manco per noi Manuel tranquillo modalità spettatore tipo telecamera certe cose non si possono dire Manuel lo capisci fai bravo allora prendi il controllo del veicolo come faccio a prendere il controllo del veicolo eccolo assisti prendi il controllo ah no posso 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 allora vai allora ok ok ma mano non mi aspettavo sinceramente questa cosa sai Andrea è che che era così strano da guidare ah secondo me perché abbiamo fatto così tante settimane sui gran turismo che è chiaramente un modello di giuda che ci è rimasto accogliato dici che è per quello non è non è lui io mi trovo un po' in difficoltà non lo nevo sta giocando col pad eh vediamo un attimo se c'è differenza tu stai andando charler sto facendo l'altro eh come si chiamano sto facendo la riga ah ok bravo tra il tempo su così io posso vedere se con con il pad vado più veloce che col volante sai che però non sto uscendo di strada eh eh dischi che magari veramente di controllo però il momento magari è sì però sto vedendo che qua vado forte ah no come mai è proprio l'impostazione del volante va guarda non ne sbaglio una c'è nel senso adesso voglio vedere per quello che chiedevo al charler se aveva il tempo eh perché tra l'altro c'era un ragazzo che mi ha chiesto di fare la prova col volante e col e col pad a vedere se c'era differenza e l'aveva chiesto un ragazzo passala passala su su discord così o su instagram va bene no quello è vero no allora un po' di un po' di allora anche se ho giocato parecchio a formula 2021 sai che ho fatto le gare tipo da 60 tutte complete 60 giri però lo vedo proprio diverso capito lo vedo diverso dal formula 2021 ma il gameplay non in male lo vedo diverso però è proprio diverso non lo so se è più difficile può essere forse forse quello che l'hanno simulato un po' di più cosa scegliere scusa si brutto oh sabato si si domenica scusami domenica devo fare la gara se riusciamo a farla però dobbiamo provare prima perché non può fare che arriviamo in ritardo se alle 2 dobbiamo già iniziare la gara facciamo così perché se no non si può fare se non c'è nessuno io e te basta non è partibile domenica io la faccio alle 2 del pomeriggio e faccio 60 giri poi va bene la sera possiamo giocare per forza no se l'ho tolto non parlavo a lui però no no niente ragazzi io non vado in sta macchina in sto cazzo di tracciato non c'è non è con la macchina né con il tracciato 11esimo non è possibile tu sei il primo Sharder ma come fai a essere primo con l'Alfa Romeo Sharder come cacchio fai a essere primo con l'Alfa Romeo che è un incesto scusate tanto di rispetto per l'Alfa Romeo ci sono le precozioni realistiche vabbè sarebbe una prova di farlo io non so se ci sono le precozioni realistiche se ne fai il campionatore le precozioni realistiche di macchina in macchina ti bagliano scusate le precozioni realistiche lo stai chiedendo a me le mie partenze queste sono tutte sono tutte di traverso frizione no in realtà poi toglierlo fai a partenza dall'inizio mi sembra dalle impostazioni degli aiuti o da una di quelle lì della gara c'è proprio partenza aiutata mi sembra assisti se ne si è consumata cosa e dalle impostazioni c'è tipo partenza assistita simulazione si ma quale le gomme le diverse le gomme diverse quando si è continuano non pare che sono diverse rispetto al dal 21 dove lo si è continuato quando ah proprio fisicamente si no graficamente ha fatto un bel passo davanti è bello proprio anche se io lo vedo molto colorato bella manuel grandissimo no non posso non posso non posso non posso mi spiace troppo casino mi hanno scritto che è troppo bordello bisogna fare le live tranquille amico mio non cambia nulla il comandante del canale sono io amico mio comandante io questo del video comandante io da Giulio bravo bravo il comandante supremo è Carla ma su queste cose non ci può mettere non ci può mettere eh devi devi faticare aspetta niente ma perché non posso andare e i po' andrea sta facendo la gara mi sa come andrea non lo so sta scrivendo morta la live non so certe parole non si possono neanche scrivere beh gasli mi stava superando ragazzi dai forza Marco Dranz ma no gasli sono quattordicesimo tu cosa sei amico mio primo no dai dici eh oh dio cioè ho quasi in testa quale mi sono in testa addosso come sono in testa e non lo so a mano perché ti da offline sinceramente la live sta andando non lo so perché ti da offline dai non scrivere il sacco di roba perché poi la gente entra vede un casino e non è bella sta cosa dai mano su dei one edition del gioco deve essere fatto bene certo che ci sono sono qui ok dai ragazzi ecco perché a volte eh ma tu stai parlando di giocatore stai parlando da solo no 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 in realtà non sto facendo niente di che ma tu le gomme le vedi più consumate rispetto al 21 no io non ho mai giocato con l'audio 21 ok madonna c'è l'audio allora ragazzi facciamo una cosa possiamo tranquillamente schippare sharder ok possiamo tranquillamente fare una gara se volete però io esco dal party perché nella live fa veramente schifo non si può fare i party quando si eh non è ridicolo cioè questa qui non me la guarda nessuno è proprio secondo me possiamo anche ristartare sinceramente il campionato perché è veramente è veramente un po' così e così allora vuoi venire dentro un attimo con noi eh allora principianti cerca gara personalizzata su invito Andrea si aspetta stavo scrivendo le cose si allora invita amici a non che cosa che sta scrivendo Marco posso salutare Giulia che mi ha regalato gentilmente la salva e volevo ringraziarla a voce assolutamente sì bravo Giulia se ci sei ancora in chat non c'ho ancora c'ho lo schermo spendo grande penso che è andata a letto però comunque la guarda le live registrate ah ok dai lo speriamo che lo sento comunque glielo dico glielo dico che l'hai ringraziata si è grandissima Giulia allora R45 è vero ti chiami R45 sì eccolo qua HR perché cazzo non c'ho il nome ok invita ho invitato sia a te che è il mitico shard facciamo le opzioni della lobby ma lo sai che con le scudo sono uscita a scendere tra 1,37 440 qualcosa sono 800esimo per ora ma il nostro non è male 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 sì si può scendere molto di cosa so rival cosa è che ha scritto allora wanna become famous buy follower prime same view ah è un bot ok allora prestazione in auto va bene sì anch'io 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 ragazzi ma io ho una sinceramente automatico traiettoria mettiamo no controllo trazione ragazzi completo scusate perché allora freni anti-block frenata assistita aiuto sterzata no anti-block così dai facciamo sì sì ciao manuel ciao grandissimo buonanotte buonanotte ti aspetto domani sera con una mitica fall guys ciao allora facciamo miami regole bandiere severità curva tipologia safeticar informazioni forse qua aspetta severità taglio pit stop safeticar previsiva no allora ragazzi è un po' così stasera ma dobbiamo anche imparare noi a far a far andare sto gioco eh quindi no no è beh c'è la prima volta eh c'è perché tanti streamer è già una settimana che lo portano ma loro hanno avuto il tempo anche prima di provarlo e di fare queste cose qui non ve le fanno vedere loro ciao amici in Italia sì sì non dire nomi eh ok ciao xxnapo se non sei iscritto iscriviti amico mio diciamo che facciamo una o due partite una o due gare massimo perché sono già stanco e domani mattina non mi alza nessuno ah 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 allora comunque impostazione simulazione no e c'è la gara inizia assistita e manuale tu fai assistita e non c'è bisogno della frizione impostazione simulazione sì 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 Andrea impostazione simulazione dove c'è difficoltà della IA ok se vai sotto la gara inizia assistita oppure manuale è lì è questa cosa qui devi uscire fuori da tutto penso perché anche prima vedi che diceva Sharder che non gli faceva neanche cambiare il coso è proprio così sì due proprio uno due sei arrivato? ah 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 Quello che ti dicevo io Te lo dico Aspetta che Allora impostazione simulazione Dove c'è regole bandiere Struttura weekend Impostazione simulazione Modifica la difficoltà della IA E gameplay in pista Stai vedendo la live Ti faccio vedere Adesso dico Caspita Manuel ha tolto Ha rimesso il follower Me ne ha tolto uno Perché pensa che è un bot Lascia perdere E' un po' mi rode Perché me ne mancavano tre Adesso me ne mancano quattro Porca miseria Meglio qualità che quantità No io voglio 600 follower Entro weekend Ciao amici Dai che partiamo Dai che partiamo Allora Allora Charles Leclerc Chi è? Ma come ho messo Charles Leclerc? Ma perché ho messo Charles Leclerc? E' un casino ragazzi E' un casino ragazzi E' un casino ragazzi Allora Marco Eh come dicevo prima Charles Leclerc Secondo me devi ricaricare il gioco Si è verificato un errore Ehm Vabbè lascia così dai Si infatti Allora Vediamo se mi fa caricare Marco Se no ha un problema Marco Perché Mi ha dato un errore Si è verificato un errore Quando clicco sul tuo nome Marco Charder Ehm Ma caspita C'è il problema tu? Non so Mi invita amici Tu non riesci a trovare la mia sessione no? Dal party Non ti fai invitare? Come se La partita non siamo? Ehm Allora Marco Io invito Amici si è verificato un errore 10.000 erotti Sennò farla tu dai Sta sessione Eh Eh Di solito con Gran Turismo Devi farla te Perché io non riesco a fare Entrare Tutti insieme E non so perché ragazzi Eh può essere Può essere Si può essere Negozio Brand Intanto vi faccio vedere Ai ragazzi Uh Le giacche I pantaloncini Viene il gioco Visto che Non è così semplice Come pensavo Sinceramente No Eh pure io Però tu eri già preparato Perché avevi già La versione precedente no? Eh però Ti dico che Mi sto trovando male Nel senso che No non male Ma è molto diverso Dal Formula 1 2021 Eh Molto diverso Cos'è che è? Eh ci sono problemi con il Stato Allora ragazzi Scusatemi dai Faccio una Un giocatore singolo Perché sennò qua I ragazzi Che sono in live Fanno Allora Scuderia Guardiamo l'altro Mi dice Accesso Iei Comunicazione con Instagram No Eh sarà Cresciato tutto Eh Prima eravamo dentro E poi dovrebbe uscire Una patch La Formula 1 Eh sì però È il Day 1 Oggi Praticamente Noi lo stiamo giocando Prima del Day 1 Quindi Bravissimo 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 Proprio questo Paganti Beta tester Paganti Go 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 Ok ragazzi Dai facciamola Anche se Non Mi ha tolto il Cioè Allora siamo a Miami Formula 1 2022 Amici miei Day 1 edition Prima del Day 1 edition Come si dice Day meno 2 Early access Early access Ragazzi Qui Siamo americani Comunque I bot mi sono venuti addosso I bot mi sono venuti addosso Ragazzi Quindi come facciamo qua Perché i bot mi vengono addosso? Si Li ha L'intelligenza artificiale È un po' È un Due volte che mi vengono addosso Ragazzi Mi vengono addosso sul dritto Mi vengono addosso Come faccio io qua? Siamo seri? Mi sa Shardel Prima di sabato Devo mettermi dietro A girare Silverstone Ragazzi Mio Dio Allora facciamo una bella cosa Devo fare il time trial qua Perché A parte che mi stanno passando sul dritto Con una Ferrari Non riesco a capire perché No mi passano tutti Ma cos'è sto gioco? No c'è qualcosa che non va eh Cioè adesso carico il Formula 1 2021 E vi faccio vedere che Che c'è qualcosa che non va qui Cioè Non ho capito Se è una questione di patch day one Ma secondo me sia Eh c'è Cioè mi stanno buttando fuori i bot sul dritto Mi vengono addosso Mi fanno girare Sulla parte dritta Eh c'è ma Ma cos'è sta roba? Cioè non Cioè non Non va bene Cioè capisci? Non va bene Non Cosa hanno fatto? Un disastro? Oh Non ti fa fare Allora ti dico una cosa Io ho sempre i giochi della Mindstone Che è la dita di Milano Mi sono sempre piaciuti Li ho sempre comprati Ho preso Quello lì di Hot Wheels Ho preso Superbike Ho sempre preso MotoGP Ho fatto la prova Sai che adesso c'è Il Playstation Plus Premium E si può provare Due ore di gioco Ho provato il Formula 1 2020 Scusa MotoGP 2022 Oh Io ho sempre giocato I giochi di moto C'è quello della Nacon Ho il Ride 4 Ce li ho tutti Ok? Sai che non riesco A stare in pista Con questo qua? Con il MotoGP 2022 Non riesco a stare in pista? Allora Questo ragazzi E' Formula 1 Il Vida 22 Benvenuti Nel futuro Della Formula 1 Su Playstation 5 Amici Parco Trams Games Iscrivetevi Al canale Grandissimi Dai 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 Ah bello Penalità taglio Bella Miami Eh Si 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 Non riesco a fare Sto bacchiando, sto bacchiando Sì Anch'io arrivo alla settima, poi l'ottava, alla volta non la metto Sì Cosa andrà? Hai utilizzato questa pista? No, vabbè Cosa andrà? Sì E' bella Miami eh Si capisce subito A parte la parte finale che è un po' lenta E' bella come pista Sì Provo la macchina dell'audizione, Andrea o no? No, 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 no Andate, andate, andate Andate, 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 andate Andate, 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 andate E' un bimbo Beh Stanotte mi sentirà perché devo farmare soldi su Gran Turismo Adesso li vado fuori di casa e mi metto a sgasare con la mia Mercede, Beclaren, BMW Eh sì, Andrea, mi sentirai stanotte Ho comprato Ho comprato la Mercedes eh, da 13 milioni raga Sì, 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 sì Ho farmato come un pazzo E poi ho fatto farmare a mio figlio oggi, poverino, ho dato 10 euro Ah, ah, ah Eh sì Eh, cacchio, mi mancano quattro macchine, dai, quattro macchine le devo comprarle, ci voglio averle tutte Solo quattro, me ne mancano No, no Benissimo Bordello? Incidente? Oh, ho visto leggermente Andrea che si gira, la tassenta Ah sì, che la partenza è terribile Quale? Eh, la facciamo con la forma ormai Eh sì Eh, la facciamo con la forma ormai Eh sì Sì, beh, ma la cominceremo perché Se siamo solo nelle prove libere va bene Se no, se siamo già Alla gara Eh, non riesco ad andare forte Non lo capisco Devo... La prova, la qualifica Ah, ok, bomba Allora possiamo continuare con lui Cazzo, invece di dare bene, vincere l'area L'altro non penso che... No, beh, ma non mi interessa neanche vincerlo, nel senso... Voglio però almeno finire una gara, cioè adesso sto anche... Sul prova sul circuito, sto facendo una fatica becco Eh... Cioè, un po' di scattini? Eh... Eh no... Io vedo dei piccoli scattini, tra l'altro, ogni tanto Si Sì 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 Ma stai non sa il gioco dal primo maggio Sharder secondo me si è fatto tutto il pomeriggio e poi ci dice no non l'ho mai visto gliel'hanno mandato 15 giorni fa esageramo no niente praticamente sbagliato tutto sharder le macchine i giri bisogna imparare a fare impostazioni anche poi se vogliamo fare quella roba dei 60 giri insieme non se no non posso non possiamo fare fanno solo la rivoluzione anche solo se fanno no non No, no, no. No, no, no. E continua a darmi taglio di curva e non mi fa dare buono il giro. Ricorda di un grosso problema per me? No, no, no. 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 Allora fai l'altra, quello su... L'altra... Suzuki. Suzuki. Eh, Suzuki. Era meglio Brasile questo Suzuki. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. e speriamo di usare questo qua perché se non mi trovo ritorno sul 21 ve lo dico raga perché eh si eh si eh no eh ragazzi se vado così come sto dando adesso a Silverstone che sono ultimo si mi trovi si beh certo no però non posso fare la gara 60 giri Formula 1 in questo modo domenica devo o imparare in questi giorni a giocare col Formula 1 2022 o torno sul 21 eh no non riesco a guidarla è possibile raga è venerdì il gioco eh venerdì è l'uscita eh anch'io adesso faccio due tre giri poi ragazzi ci vediamo domani sera Fall Guys chi vuole venire ragazzi chi vuole partecipare venite 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 eh tanto Fall Guys ragazzi è gratuito eh quindi scaricatelo se siamo più di dieci facciamo una bella lobby tra di noi se no giochiamo io Kit Axel e Morris siamo questi ciao amici come state amici di Twitch grandissimi benvenuti se non siete iscritti il canale volete vedere il Formula 1 2022 iscrivetevi al canale di Marco Dranz eh grandissimi dai l'unico con un giro che non riesco a stare in strada è una cosa incredibile non non pensavo che era così sinceramente lo dico ragazzi o sono un po' stanco io forse ciao amici grandissimi benvenuti allora addirittura stavolta è più lento Formula 1 2022 amici grandissimi se vi piace e volete seguirmi sia in Formula 1 22 che Gran Turismo iscrivetevi al canale grandissimi dai 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 vi aspetto ci divertiamo insieme eccoci qua è già sono uscito fuori dal tracciato ragazzi è incredibile eccoci qua Allora, è un po' diverso dal 2021, amici, è cambiato sia il gameplay, vero Sharder e Andrea, è anche il, secondo me è anche la manovrabilità della macchina e anche il controller, non sto dicendo che è migliorato in peggio, cioè che è cambiato in peggio ma è cambiato, quindi bisogna abituarsi, sì, anche la realtà sono più difficili di quelle altre, è cambiato con la... tutto quanto? Sì, sì, la carrozzeria non è più quella di qui, già che c'hanno quelli, l'alvezione di diavolo è diversa, poi sono più ragionate davanti, hanno fatto una carrozzeria proprio più ragionate, allora l'erogazione della potenza del motore mi piace di più, sinceramente, più fluida, ti ricordi che l'altro era tipo wow e poi ti bisognava cambiare? eh, quello è cambiato, l'erogazione più wow ma... quindi sì... Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo se riusciamo a tirar giù il tempo di prima amici. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.